La frenata brusca è stata seguita dalla fermata e pessimismo che si litigato attorno alla negoziazione diventato reale e concreto il colombiano non vestirà la giallorossi. Mercato. Trasferimento. L'urgenza di Roma quella accelerare per trovare un'alternativa per dare Mourinho prima possibile. La Roma serve un primo consiglio. Questa è l'unica cosa certa. Che sarà ancora tutto da decifrare. I Luci e Keane sono stati offerti a Tiago Pinto. Ma la rea della Juventus non sarebbe arrivata in prestito. Come perforato da Torino. Tuttavia non trova conferma da Londra e dal Chelsea. È Lukaku. Che aveva concordato con la Juve per 11 milioni di netti all'anno. Il cognome è quello di Marcos Leonardo che. Tuttavia. La Roma ha bloccato per gennaio. Il tempo detiene. Mourinho ha bisogno di un aggressore.